Potrebbe scattare presto la zona arancione o addirittura rossa per l'intero Abruzzo. La causa è il forte incremento dell'indice RT che oscilla intorno all'1,20. La Regione, con un'ordinanza, ha già vietato di entrare e uscire da Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla. In provincia di Teramo è stata imposta stretta sorveglianza su Giulianova, anche se il sindaco Costantini si dice stupito da queste indicazioni regionali e parla di un calo dei casi. 289 su una popolazione di 25.000 abitanti. Ed è la variante inglese del Covid a preoccupare, quella più contagiosa che si registra nell'area pescarese e che viene studiata con attenzione dagli scienziati del Laboratorio di Genetica Nucleare dell'Università di Chieti e dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. In attesa dei vaccini per tutti si continua a consigliare screening di massa. Un esempio è quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo che ha appena comunicato ai propri iscritti l'avvio di una campagna di screening che permetterà agli avvocati e ai praticanti del Foro Teramano di accedere gratuitamente al tampone rapido antigenico. I test a Teramo verranno effettuati mercoledì 17 febbraio al Palas Capriano dalle ore 15.30 alle 18 dal personale dell'Asla di Teramo e garantiranno risultati rapidi e rigorosamente verificati. L'iniziativa adottata dal Consiglio dell'Ordine in sinergia con ASL e Comune di Teramo è parte di un ampio progetto giustizia e sicurezza finanziato dallo stesso Consiglio e dalla Cassa Forense con cui si intende garantire assistenza agli oltre 1.200 avvocati e praticanti teramani attraverso l'utilizzo di strumenti di monitoraggio e strategie di profilassi.